Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 5 novembre di Globus Television. Martedì, pressione un po' in calo. La giornata caratterizzata da condizioni di tempo asciutto, cielo molto più nuvoloso sui settori orientali, anche con occasionali brevi piovaschi. Temperature massime fino a 22 gradi, valori notturni senza grosse variazioni. Mari, Marioni o Mosso, quasi calmi gli altri mari. Grazie a tutti.